e salve a tutti però io sono b64 e oggi siamo su crash royale ragazzi ragazzi ho visto una cosa il lord di scheretti ragazzi questa mossa è proprio questa carta proprio fortissima la vorrei avere però otto ore se figli erano queste otto ora addio carta contate rischietti ragazzi una cosa quando gioca clash royale vedete che il gioco minuscolo è tutto nero lo sfondo è tutto nero per questo che io ho modificato sul video show ho modificato la scrivata nera mettendo le foto di crash royale non so come mettere pure la webcam non so come fare perché la webcam è così dentro il gioco non so come andava fuori molto difficile che alcuni lo sanno fare alcuni alcuni no quindi iniziamo dai dai provo anzi forse da questo usiamo questo che è di livello 5 vai ci vorrà troppo tempo ragazzi non so come andava 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 dai solo qua il piccato dai ragazzi ma non è che sta con la si struggi ma dai si stia ... ... ... ... ... ... e tu volevi scelare ragazzi vai 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 ti prego vai vai non ce l'ha fatta la stella dai che ce l'ha fatta la stella dai che ce l'ha fatta la stella dai che ce l'ha fatta la stella dai resisti dobbiamo resistere ragazzi vuoi la guerra ragazzi e io metto il cicato così mi ha scorretto molto tempo e ho detto pure la motera dai dai no abbiamo perso no abbiamo perso ma perchè ho aperto sempre ragazzi 590 ragazzi non può essere che so così scarso a giocare prima vincevo sempre provviso fermo bene ce la facciamo che più informazione che può sentire anche che il Cosa vuole? Cosa cosa vuole? Cosa che fai? Grazie a tutti. 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 E vi c'è il bocchettiere. Vai, bocchettiere. No. Grazie a tutti. Buon appetito. Buon appetito. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Buon appetito. 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 la città